Vediamo un po' che abbiamo Gragas mid, malfy top, il mio preferito e Draven ad carry che non è male con Rakan va bene, va bene, cerchiamo di fare... allora ragazzi, questo viene, non sbaglio e mi arrabbio anche se siamo contro champion porti innanzitutto opriamo il grasso a Kali, che strano what? ma non è normale, penso, avere il grasso a Kali che stanno scrivendo il gruppo dei... dei robini lì vorrei startare vorrei startare bozzati da sto giro voglio provare una cosa vero? se possiamo... grazie Geronimo di cerci, non dovevi? dal momento che cadiamo la scalata è la nostra destinazione l'ho chiamato red ma intendevo il blu, chiaramente sono troppo opito da startare red dovrei esserci, però insomma ti scrivo dopo il dentista ma prima non ci sei tu, scusami Nara no grazie Tom troppo gentile anche tu eh e allora se quell'erro a Rario, dai eh... non lo so Geronimo ma in realtà, se non è adesso ci sono un sacco di campioni più figli ok allora hanno bucano mid lane ok questo è insolito secondo me ecco perchè ha l'ustio nell'altro lì ecco perchè ha l'ustio nell'altro lì ecco perchè ha l'ustio nell'altro lì ecco posso andare per scatolo? posso andare? abbiamo mid lane praia, troppo in praia battendo le bros mentre hai busciare guarda la doppio di Kragas broken ecco ha flashato, muore ecco no, non ho preso la cave, che triste mannaggia vado a fare lo scatto, vado a fare grazie per il sub questo che fai da panting così ma sei impazzito per caso scusami è che sono il più scarso dei campioni sicuramente non del mestiere ragazzi grazie merc dei quattro mesi ma non lo so come si permette forse devo andare straight bot invece che fare questo no 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 dai dammi l'assist dammi l'assist draven 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 dammi l'assist bro io boh veramente manco l'assist le aiuta pure a busciarla away pensa che ingradi che sono pensi ci ho pensato sai i smite sul carretto però alla fine ho pensato che avrei fatto il grompetto prendere con la retta vabbè dai mi sembra un po' da criminale sta roba lasciamo perdere oh oh choki è morto ma dieu choki io sono ben farmato ragazzi ve lo sei già adesso potrei andare a dare bot non dovrebbero avere sams solo che se ultro così non faccio danni perchè ho 1800 gold in tasca mi non ha item però in trial da noi draven basta abbiamo il pugnale spada questi rivenchiamo adesso oh io si rivenchiamo adesso potrebbero decidere di giocare safe però se fa utilizzare il dash a luce non è perfetto ah la wave in realtà pusha verso di noi solo che ragazzi sta pagando troppo il bullet vai 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 oh fuck non è un disastro ah pensavo potesse in qualche modo finire male sapete a quanto pare mi sbagliavo ok ha detto questo che lo prendo io ho preso le kill me ne vado via ciao quando ho visto il hack ho pensato oh no in realtà è stato facilissimo non so come mai meglio ho trovato mille volte il mio limite eppure vado oltre stava anche al 5 beh si però le fiamme mi rivedo vabbè oddio insomma però beh il back di vantaggio quindi pensavo potesse essere pericoloso anche perchè Luciano aveva dashato in proprio in quel momento e io ero lontanissimo da lui ma no non ho nemmeno mai broccato una volta di morsi del freddo di brom tra l'altro ma semplicemente presi il pivot prendo la wave mi impedisco anche di fare la plate non è male ok ok Luciano e mid per caso yes ah guarda come corro caspita arrabbiatissimo pantheon oh ciao ma chi la vuoi dare? potevo lasciare il gol da dreven ma l'ha incastrato recentemente no che cacchio fai? posto grazie malfito tra l'altro non solo mi ha aiutato ma si è anche speed up per arrivare prima in lane fai bad sono curioso un po' però in realtà ho il timore di metterlo basso dopo la prima placement sul main account dopo la prima placement sul main account sono finito in platino 1.64 vediamo dopo di questo secondo me dove mi piazza ma d4 è impossibile se mi va bene platino dopo la prima rank ed è a x lp oh doveva essere empowered quella? andiamo a prenderci il core drinker e poi posso andare a topside magari a indovinare guarda che fanno le cose possiamo devarli vai con malfitozzi possiamo devare sarebbe fichissimo da fare nooo stanno resettando maledetti ma come mai è diventato un'arma l'improvviso sto game sono tutti mid lane va bene un po' perplesso ma malfito ce l'ha l'ultima oh muore ehi qui ce ne sono due la faccio ok ok meno male si può mettere in platino 1 come ha fatto su me in account alla fine stendo prima di uno c'è speranza ehi 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 ok grazie eh no non fare le moglie arrabbiate i giocatori sono d2 e d4 allora potrebbe mettermi in platino 1 dai vediamo riconosco l'open del d2 campione preferito ultimamente direi che che ne ha solo 30 un picco no forse open davvero ragazzi open vero open vero in solo queue wow più unico che rare questo ehi ehi ciao golden no ragazzi troppo contento comunque voi non potete capire quanto ho aspettato quanti anni ho aspettato ah penso di sia adesso padawan penso di sia perché domani è appuntamento finalmente anche la postazione sì anche la postazione ma è quale è più per voi che per me no scusa più o meno per me no così si schianta sull'inibitore forse non riesce a fare il ballo dell'eraldo però amico un po' di knowledge un po' di cacchio di knowledge mannagina questi non sono esperti degli open guarda ha fatto morire l'erad guarda che mostro ha fatto morire l'erad non balla adesso non balla eh la vedi poi dicono poi flammano me quando maxavo la doppia usi pantheon no per abitudine quando sei abitato a maxare una spell c'è poco da fare di fare tipo 300 game prima di maxare l'altra prima di imparare a maxare l'altra kind of naram kind of si ehi sub night prossimo game sub night ragazzi che cacchio impressissimo per la sub night siamo in stream da 9 ore e 38 andiamo qui fino a boh rakan miracle run sullo smurf non lo so ragazzi vediamo vediamo dove mette questo è il primo game please mettimi in platino 1 dai se metti in platino 1 non sogna veramente ragazzi è come il main sulmeno ho preso più 64 mi sembra mi sembra sullo smurf 62 per cui non cambia granché giochiamoci bene le placement ovviamente